Siamo qua con Alessio Bruzzone, il capitano dell'Altarese. Buongiorno a tutti. Alessio, una partita fondamentale, come valuti la prestazione oggi della tua squadra? La prestazione è stata un'ottima prestazione di squadra, devo dire che tutti i ragazzi hanno corso per se stessi e per i compagni, hanno fatto tutti una grande prestazione, abbiamo dato tutti il 100%, il risultato è una testimonianza, però testa bassa, pedalare, lavorare bene in settimana, perché c'è anche una grada di ritorno che è estremamente fondamentale. Che partita vi aspettate quella del ritorno? Sarà sicuramente una battaglia, caldo, loro saranno molto aggueriti perché hanno perso, bisogna sputtare sangue, andare là e giocare senza pensieri e portare a casa il risultato. Secondo te quanto mancheranno Zela e lo squalificato Bubba? Questo è un gruppo eccezionale, non sono io che lo scopo, però nonostante l'assenza e chi va in campo sa superirla. Io sono estremamente fiducioso che tutti i ragazzi che scendono in campo e che sono in panchia un'altra domenica daranno tutti se stessi per la casa d'Altarese. Che cosa è mancato all'Altarese quest'anno per salvarsi direttamente? Fa sicuramente un pizzico di continuità, di brillantezza mentale, perché i colpi in questa squadra ci sono, però l'esperienza si fa solamente giocando e questo forse ci è mancato un pochino. Ringraziamo Alessio e gli facciamo l'in bocca al lupo per domenica prossima. Grazie, ciao a tutti!